io sto curando pure con le riprese video Oliver Noron il mio fotografo ufficiale non è mai fermo vai Marti vai vai vero Lucio Franci adesso la regina vuole fare una foto facciamo adesso vai hai finito vai vai i buoni Jessica e la balbo regina vieni la regina vicino non scrivere troppo magari che puoi sia arriva per fare questo che facciamo lo scatto vai 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 Sweep! Stop! 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 No! Stop! No! No! Si piacciamo per quel proprio come c'è la vodelless ...di quel tipo, come anche i catamori. Benzame Muccio, dove ti tiene stanotte la ultima vez? Benzame, benzame Muccio. Benzame, benzame Muccio, come se fosse un giro, benzame, benzame Muccio. Benzame Muccio, come se fosse un giro.